Il 19 e il 20 ottobre il Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi di Vibo Valencia ospiterà la prima fiera dei musei della Magna Grecia e della Sicilia, un'occasione importante per rivolgere lo sguardo all'intera Italia meridionale con un'attenzione particolare verso i luoghi della cultura che ospitano le importanti testimonianze della colonizzazione greca. Ogni museo partecipante illustrerà il proprio patrimonio archeologico divenendo così occasione condivisa di conoscenza delle testimonianze di ciascun museo. Tra gli obiettivi della fiera, quello di promuovere i siti e le destinazioni di richiamo archeologico, tra gli operatori turistici e culturali, i viaggiatori e gli appassionati. La fiera dei musei della Magna Grecia prende spunto da un'idea originale del Museo di Vibo Valencia, il Vito Capialbi, in occasione dei festeggiamenti, delle celebrazioni per il cinquantenario del museo. Quindi si è pensato ad una fiera di quella che è la caratteristica forse più peculiare della Calabria, che è la Magna Grecia, che è identitaria della nostra regione e di regioni che sono con termini come la Campania, la Puglia, la Basilicata e naturalmente anche la regione Sicilia. È un momento anche di condivisione con altre realtà che si occupano di beni culturali, come le associazioni, come le start-up che si trovano operative oggi sui beni culturali. Lo spin-off dell'Unical e aziende che lavorano ormai da tempo sulla promozione e sulla comunicazione ai fini turistici del grande patrimonio culturale che ha la regione Calabria. Domenica 20 sarà inoltre realizzato un workshop che vedrà coinvolti istituzioni museali, enti pubblici e operatori turistici per avere un processo di sinergia tra turismo e cultura, che possa conferire attraverso le nuove tecnologie, maggiore attrattiva ai prodotti turistici e culturali. Pensiamo di dare il nostro apporto proponendo un progetto di industria culturale per un territorio vasto che va appunto dalla Puglia alla Sicilia e che vede protagonisti i musei e i giovani. In che termine? Insieme al progetto Flip the School e Merisi è previsto anche la partecipazione di stakeholder di aziende che operano nel settore della cultura per cui verranno presentate due, verrà presentata un'app innovativa che si chiama Merisi che ha lo scopo di creare questo network di promozione tra reti museali e poi Flip the School che invece è un'iniziativa molto innovativa che avvicina i giovani delle scuole medie all'ambiente del museo attraverso dei laboratori. Con questo tipo di iniziativa ci auguriamo appunto di contribuire ad incrementare le presenze museali e soprattutto a far scoprire la ricca cultura magno-greca ai nostri giovani. Grazie a tutti.